L'atto omosessuale per noi non è cristiano, anzi sarebbe da condannare sempre. Non arretra di un millimetro nella propria posizione il consigliere del gruppo misto in comune Fabio Tuiac, ospite ieri sera nella puntata di Ring. Al centro della discussione ancora le sue posizioni estreme nei confronti del mondo gay, che gli sono anche valse una denuncia, in merito soprattutto alle ultime dichiarazioni che gli hanno regalato citazioni nei quotidiani di tutta Italia. Il punto è sempre lo stesso, Tuiac è convinto di essere perseguitato per la propria fede e prosegue a spada tratta nelle proprie convinzioni. L'atto omosessuale per i nostri santi era satanico, adesso ce ne sono tanti che ne hanno parlato come Santa Caterina. Cioè tu dici che uno omosessuale non può credere in Dio? Puoi credere in Dio, però devi stare in astinenza. L'atto omosessuale per noi è satanico. L'atto omosessuale è satanico, secondo il consigliere del gruppo misto. Può esserci amore tra omosessuali e possono pure essere credenti, ma guai a loro se provano a cercare intimità. E il consigliere Tuiac tenta di spiegarci il perché. Perché litigano marito e moglie? Posso dire che tante volte si litiga per il sesso. Perché litigano marito e marito? Perché? Per quel motivo lì ha? Cioè, boh, non è stato elegante, non lo ridirei. Però effettivamente fanno l'amore dolcemente, lo fanno così. Ti avresti dei figli a queste persone qua? Beh, certo, volgare è volgare, però ripeto sempre, sono un scaricatore di porto a generazioni. Come Chiosa allora arriva anche una freccetina alla Lega e a tutta la destra italiana, che, a detta di Tuiac, non sarebbe poi così cattolica. Ho difeso veramente quei valori per cui sono stato... Ho difeso più degli altri, ho difeso quello che avrebbe dovuto difendere la Lega, che in verità non è che è la difesa così tanto. Se non è Dio, padre e famiglia, famiglia non è destra. Non puoi essere cattolico se non sei contro l'aborto, non sei contro la difesa della famiglia naturale, eccetera.